benvenuti a tutti amici miei questa è la mia passione è da qui che prende il nome mio canale youtube Nicola la passione per il mare perché la pesca è qualcosa di molto bello e poi ad ogni uscita sarà sempre diverso perché ogni giorno cambierà però non c'è niente di più bello che alzarsi al mattino presto prendere la barca il canale da pesca e andare a pescare e rilasciarsi un po' sentire il profumo del mare il rumore delle onde che ci dà quel senso di libertà di tranquillità e anche di felicità perché stiamo facendo qualcosa che ci piace chi ha questa passione mi potrà capire che a noi pescatori non importa se dobbiamo essersi presto al mattino per poter raggiungere la zona di pesca non importa se abbiamo dormito poche ore non importa se dobbiamo fare tanta strada comunque si nasce con questa passione perché chi non è veramente appassionato della pesca del mare prima o poi si stancherà perché magari non è riuscito a prendere del pesce però la pesca è così non possiamo farci niente poi con il tempo diventeremo sempre più bravi perché ad ogni uscita riusciremo a capire un qualcosa di diverso perché la pesca non è mai tutti i giorni uguali quindi riusciremo ad imparare cose nuove magari anche guardando gli altri pescatori e riusciamo a farci un'idea del modo in cui dobbiamo pescare ma anche dell'attrezzatura che dobbiamo utilizzare